Inizia il secondo tempo in questo momento West Ham tra i pali Casasole, al centro della difesa Maggi sulle fasce Marzi, Antonio e Pantarelli e in attacco Francesco Cavalletti Maggi per il sito risponde Iasu sui pali, al centro della difesa Caldoro sulle fasce Mandini e Ciuffa e al centro dell'attacco il bomber Francesco Notazio Mandini recupera un gran pallone palla per Notazio che vede nuovamente Mandini contropiede del sito e bravissimo Marzi, Antonio a recuperare il pallone che riparte poi in contropiede vede Pantarelli Pantarelli tenta il numero bravissimo Caldoro fallo laterale per il WSM Pantarelli tenta il numero sicuramente non è come il suo cugino la pantamania Michele Pantarelli però è sempre un bravo giocatore fallo laterale per il WSM Pantarelli che vede Maggi il tiro Maggi ancora Cavalletti incredibile errore di Maggi che non ha tirato Pantarelli il tiro deviato ancora da Mandini Notazio spazia Marzi Antonio Marzi Antonio per Maggi Maggi per Pantarelli Pantarelli per Cavalletti bravissimo Mandini a mettere la palla in fallo laterale riparte il WSM Pantarelli per Marzi Antonio che sbaglia il passaggio per Francesco riparte il sito Mandini Mandini per Caldoro 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 vede Ciuffa Ciuffa Avanza Ciuffa Ancora Ciuffa Ancora Ciuffa Ciuffa per Mandini Mandini vede Ciuffa bravissimo Maggi a interrompere l'azione un muro questa sera Maggi ancora Pantarelli bravissimo sbaglia il tacco Marzi Antonio riparte il contropia di Ciuffa ma è nuovamente Massimiliano Maggi una dica questa sera grande prestazione la sua prova Notazio un tiro da fuori ma è il Casasole che azza attenzione riparte Pantarelli tutto sinistro Marzi Antonio vede Francesco Cavalletti sbaglia il passaggio riparte il sito con gli A gli A per Caldoro attenzione adesso ci lascia mister Manetti Mandini prova il tiro da fuori deviato calcio d'angolo per il sito Ciuffa Marzi Antonio Marzi Antonio per Pantarelli Pantarelli per Marzi Antonio intercetta la palla Caldoro Pantarelli sbaglia il passaggio per Cavalletti riparte Mandini Mandini interrompe l'azione Pantarelli Cavalletti per Marzi Antonio Marzi Antonio si gira prova un tiro dalla lunga distanza ma sbaglia attenzione Caldoro contro Piede sbaglia la palla per Notazio fallo laterale per il WSM Marzi Antonio per Pantarelli Maggi attenzione recupera la palla da Notazio che poi la perde nuovamente Pantarelli prova il lancio per Marzi Antonio troppo lungo riparte il sito Mandini Mandini per Caldoro attenzione no ancora Mandini grandissimo numero smarca tre avversari Mandini prova il destro fuori di poco grandissimo numero di Mandini ottima la sua prestazione Casasole Marzi Antonio per Pantarelli Pantarelli fascia destra tutto sinistro prova il sinistro Pantarelli deviato da Mandini calcio d'angolo per il WSM calcio d'angolo Maggi fallo laterale per il sito ciuffa vede Notazio solo Notazio che cerca in mezzo Mandini bravissimo Pantarelli interrompere l'azione Caldoro ribadisce fallo laterale grande WSM questa sera Pantarelli per Marzi Antonio triangolo tra i due Pantarelli sinistro rientra miracolo di A bravissimo il folletto del WSM Umberto Pantarelli calcio d'angolo per gli Hammers che vede Pantarelli per poco trova la deviazione vincente fallo laterale per i siti Mandini Mandini vede lungo Casasole per poco spiora un gol clamoroso a pallonetto bravissimo il gaz a Casasole fallo laterale per i siti Caldoro Caldoro per Mandini ancora Mandini avanza tenta un numero stavolta sbaglia però recupera Caldoro Caldoro attenzione Caldoro il destro fuori di poco riparte il WSM con Umberto Pantarelli Pantarelli attenzione il tiro di Marzi Antonio Pantarelli ancora Pantarelli tenta il numero bravissimo il portiere Iari riparte il siti Caldoro Caldoro per Notazio Notazio vede solo Mandini ma il numero di Notazio prova il destro gooo gooo grandissimo gol di Notazio destro potentissimo il suo riparte il riparte il WSM attenzione il tiro di Marzi Antonio riparte il siti con gli A gli A per Mandini il tiro di Mandini fuori di poco calcio d'angolo per il siti colpo di testa di Caldoro recupera però recupera il siti Notazio ancora Notazio il destro tiro di Casasole Pantarelli recupera Mandini fallo laterale per i siti riparte il WSM Maggi Maggi per Cecchieci Caldoro Caldoro sbaglia però c'è c'è punizione punizione per il WSM attenzione Mandini Mandini Tafferugli il tanto sugli spalti attenzione Mandini il fallo punizione dal limite punizione dal limite per i punizione dal limite per i siti sulla battuta Caldoro oh raga punizione Mandini Mandini per Caldoro il tiro da fuori respinto riparte il siti batte Ia Caldoro incredibile sbaglio del portiere Ia ne approfitta Umberto Pantarelli che sigla il gol clamoroso errore del portiere clamoroso errore del portiere Ia ne approfitta Pantarelli riparte il siti Mandini Mandini per Caldoro ancora Mandini che cerca il passaggio filtrante per Ciuffa si gira Ciuffa bravissimo Maggi recuperare riparte Pantarelli Pantarelli indietro per Maggi Maggi cerchetti sulla sinistra vede i cavalletti in mezzo riparte Pantarelli rientra sul sinistro Pantarelli vede cerchetti libero sulla fascia sinistra ancora Pantarelli tiro respinto da Caldoro riparte il siti con Mandini sulla fascia sinistra rientra sul destro ancora Mandini bravissimo cerca un doppio passo il tiro deviato da Maggi calcio d'angolo per il siti ciuffa ciuffa per Mandini che prova a girarsi ma è ancora Maggi a recuperare ancora Mandini sul pallone bravissimo Mandini a difendere la palla prova il destro si gira clamorosa parata di Casasole della Valle era pronto a spizzare la palla e metterla in rete riparte Popola contro piede 3 contro 1 cerchetti per Popola tiro rete contro piede velocissimo degli Ammers con cerchetti assist al bacio per Popola e gol del bomber Giacomo partita difficile per il siti questa sera il siti riparte Notazio Notazio si gira vede Caldoro Caldoro per Mandini sbaglia il controllo riparte il WSM con Maggi sulla fascia destra Pantarelli si libera di Notazio avanza Pantarelli che vede Maggi libero sulla fascia sinistra Popola al centro avanza Popola grande numero sbaglia però della Valle vede Caldoro libero ma sbaglia il passaggio che poteva portare in porta l'attaccante del siti il numero 11 Caldoro fallo laterale per il WSM riparte Pantarelli dal centro della difesa per Pacelli Pacelli per Pupola Pupola Cerchetti libero sulla fascia il tiro di Cerchetti debole Paraglia Mandini spazza ancora il WSM pericolosissimo buono il trio il trio lì davanti Pupola Cerchetti Pacelli e Pantarelli gran quintetto adesso per il WSM veramente veloce e a merce ancora Pantarelli Pantarelli bravissimo Mandini a mettere la palla in calcio d'angolo calcio d'angolo Pantarelli colpo di tacco cercavo da Pacelli fuori riparte Citi Mandini Mandini per Notazio scusate per Caldoro Caldoro per Mandini retro passaggio per Ia Mandini Mandini per Caldoro retro passaggio cerchetti il tiro fuori di Pacelli Ia Ia per Caldoro Caldoro per Mandini Mandini Caldoro riparte Pantarelli in contropiede rientra sul sinistro vede Pacelli libero prova il tiro invece libera per Pupola clamoroso gran gol sotto al set di Pupola grandissimo WSM ragazzi a segnalare sei gol di Pupola Giacomo stavolta sempre più capocannoniere del torneo riparte Ziti Notazio partita difficile questa per i Ziti sbaglio il passaggio Notazio per Caldoro Pacelli Pacelli per Pantarelli non ci arriva Pupola Notazio per Mandini grande prestazione la sua prova il destro grandissimo gol di Mandini grandissimo gol di Mandini stavolta Casasole non può far nulla Pupola per Cercheggi Cercheggi per Pacelli Pacelli tenta un numero vede Pupola libero si sovrappone Pacelli prova il gol attenzione Cercheggi il tiro deviato da Andrea della Valle che salva il gol grandissimo Andrea che si immola calcio d'angolo per il WSM Pupola attenzione Pupola per Pacelli che si libera mette il calcio d'angolo della Valle ancora il WSM in attacco grandissima la prova dei ragazzi di Francesco Cavalletti attenzione Pupola Pupola vede Pantarelli grandissimo gol sotto l'incrocio di pali dei Pantarelli bellissima la prestazione anche la sua riparte l'azione Mandini Mandini per Gia Gia per Caldoro che vede Notazio libero sulla fascia si prova a girarsi Notazio calcio d'angolo Siti calcio d'angolo di Notazio uno dei migliori dei suoi in tutto il torneo quest'oggi però da segnalare la grande prova di Mandini riparte il WSM Pantarelli per Pacelli Pacelli per Pupola 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 per Pacelli che sbaglia Pantarelli di sinistro Paraglia calcio d'angolo calcio d'angolo Pupola stavolta sbaglia un gol clamoroso poteva essere il suo settimo sigillo della serata riparte Ziti Notazio sbaglia il passaggio per Caldoro Casasole 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 per Pacelli Pacelli per Cerchiecci Cerchiecci per Pantarelli Pantarelli rientra sul sinistro vede Pacelli libero destro gol ancora gol di Pacelli ormai il WSM ha preso la larga per il sito è una brutta sconfitta però questi ragazzi meritano un applauso perché non mollano mai sono sempre presenti in questo torneo la loro passione per il calcio e per lo sport è tanta il loro spirito di amicizia è da ammirare soprattutto grazie a Francesco Notazio che ha regalato ci ha regalato un gruppo fantastico che è una vera propria realtà nell'Orvietano e dintorno riparte il siti Notazio trova il tiro fuori rimessa dal fondo Casasole Casasole per Maggi Maggi per Pacelli Pacelli vede Popola lungo il passaggio riparte Ia Ia per Notazio Notazio vede Mandini Mandini il destro grandissimo gol di Mandini grandissima la prova la sua bellissimo assist di Notazio per Mandini che mette all'angolino basso la palla in rete riparte l'USM Maggi Pacelli Pacelli per Popola bravissimo Notazio mettere la palla in fallo laterale Pupola vede Pacelli che con un colpo di tacco prova l'assiste per Francesco Cavalletti è caldora a mettere la palla in calcio d'angolo calcio d'angolo per l'USM ancora Pupola Pacelli che prova il destro rete ancora Giulio Pacelli rete per lui Giulio Pacelli gol destro all'angolino basso il portiere Ia non può fare niente riparte il sito Mandini Mandini per Ciuffa Ciuffa per Notazio sale Ciuffa vede ancora Notazio sulla sinistra sbaglia il passaggio Notazio per poco non approfitta Francesco Cavalletti Ia Ia per Notazio Notazio cerca l'assiste per Ciuffa troppo lungo riparte Casasole Casasole per Pacelli sbaglia l'assiste ma attenzione ancora Pupola Pupola si libra di Notazio Pupola si libra del portiere ancora gol di Pupola sono otto i gol di Pupola questa sera stavolta se ne va in classifica Marcatori Giacomo Pupola veramente un bel giocatore questo ragazzi anzi sono sette i gol mi dicono dalla regia e non otto riparte Ciuffa Ciuffa per Gia ancora Ciuffa avanza Ciuffa avete Notazio libero Notazio mette in mezzo una grande palla per Caldoro che sbaglia e tira alto grandissima palla di Notazio riparte l'USM l'USM per Massimiliano Maggi attenzione Caldoro Caldoro per Notazio di Tacco clamoroso ancora di Tacco tenta un gol come l'altra la scorsa giornata Notazio Mandini Mandini attenzione sbaglia Mandini Francesco Cavalletti Cavalletti il palo riparte Caldoro Caldoro 3 contro 1 per i Ziti qui c'era un fallo sicuramente non fischiavo dall'arbitro riparte il Ziti Notazio ancora Notazio libero il tiro palo clamoroso palo di Notazio riparte l'USM Casasole Casasole Mandini tenta un tacco colpo di tacco un po' strano palla in fallo laterale Pacelli Pacelli per Pupola Pupola dribbling supera Mandini prova il diagonale fuori di poco grandissima prova di Giacomo Pupola stavolta il WSM conquisterà questa vittoria tiro da fuori di Caldoro respinge Massimiliano Maggi grande prova anche la sua al centro della difesa un muro questa sera ancora Mandini Mandini tenta il numero Caldoro il tiro Notazio palo nuovamente di Notazio clamoroso incredibile sfortunato il bomber del City Notazio il numero 10 attenzione riparte il WSM Giulio Pacelli tira fuori manca un minuto al termine della partita il City riparte con Caldoro Caldoro fallo laterale per il City riparte Ia Ia per Ciuffa Ciuffa per Ia ancora Ciuffa fallo di Marzi Antonio su Ciuffa punizione per il Manchester City Mandini Mandini ancora numero di Mandini rientra sul destro si allunga il pallone fallo laterale per il WSM Maggi Maggi sbaglia il passaggio Ciuffa Ciuffa trova un colpo di tacco per Mandini attenzione scivola Pacelli riparte ma recupera ancora la palla Pacelli Pacelli rientra sul destro il tiro di Giulio Pacelli finisce la partita in questo momento grandissima vittoria del WSM sul City ragazzi vi auguro una buona serata e un abbraccio a tutti gli amici della Premier League alla prossima